Annuncio alle donne lucane. È partita la nuova campagna di informazione e sensibilizzazione per la vaccinazione gratuita contro il papilloma virus. L'iniziativa, che vede l'alto patrocinio della Regione Basilicata, si inserisce nella programmazione istituzionale dell'Ente ed ha già stabilito un positivo primato. La Basilicata è stata infatti la prima Regione in Italia ad aver avviato nel 2007 un programma di vaccinazione. Un impegno importante di prevenzione che interessa una popolazione bersaglio molto ampia, unico come intervento nel nostro paese, ragazze dai 12 ai 25 anni, con una grande partecipazione nella prima fase di questa campagna vaccinale. Noi replichiamo un'iniziativa che significa prevenzione, significa più salute per le donne, significa anche un positivo contributo ai conti e all'equilibrio della sanità della nostra Regione. Compito della politica sanitaria regionale è di mantenere sempre alta l'attenzione della popolazione locale verso le forme di prevenzione. Testimonia ancora una volta la sensibilità della Regione sulla fase soprattutto della prevenzione e anche sulla tutela della salute non solo all'interno delle strutture sanitarie, ma attraverso delle campagne di screening prima e adesso anche di vaccinazione. 24.000 le donne che hanno assunto il vaccino durante la prima campagna, ridotti i costi del 50% per una spesa di circa 50 euro a vaccino, e la possibilità di estendere la vaccinazione anche ai maschi, proteggendo così gli adolescenti dalle malattie infettive legate all'HPV. Il papilloma virus è un virus che si trasmette attraverso i contatti sessuali. È all'origine di un processo infiammatorio della mucosa della cervice e in realtà dell'epitelio, che nel tempo e permanendo nel tempo può sviluppare delle alterazioni che possono giungere, non obbligatoriamente, ma possono arrivare a dare il cancro della cervice. Come ci si difende? Si difende innanzitutto cercando di fare una sana attività sessuale. Per sana attività sessuale significa protetta e coerente. Un vaccino che è capace di proteggerci da alcuni tipi di questo virus, che sono quelli più presenti nella nostra popolazione europea. Chi è che può vaccinarsi? Si possono vaccinare innanzitutto tutte le donne a partire dai 12 anni. In realtà i nuovi dati dicono che anche le donne oltre i 45 anni hanno un beneficio dal vaccinarsi, perché il vaccino è composto da più frazioni antigeniche.